Mi avete chiesto in tanti un po' come sta proseguendo la causa relativa al Momentum che è stata fatta ad EA. Al momento non ci sono grossi aggiornamenti che arrivano da quel della California, però oggi vi porto un video che un po' si porta sullo stesso piano. Infatti parliamo di Momentum, parliamo in particolare di come andare a evitarlo. Infatti abbiamo ormai appurato, insomma, dell'esistenza di script, Momentum, difficoltà dinamica proprio all'interno del codice di gioco. Nel brevetto che gli sviluppatori hanno depositato ormai con l'uscita di FIFA 17, è un caso questo col primo anno di Weekend League, ma questo magari lo approfondiremo un'altra volta, quindi diciamo che vado a darvi qualche piccolo consiglio su come andare a gestire determinate situazioni. Passiamo sulla schermata, visto che ci andiamo a collocare sulla classifica della Weekend League, che diciamo è un po' la competizione di maggiore interesse, visto che la possiamo giocare tutti, e immagino che è quella dove si cerca di fare sempre il miglior risultato, non solo da parte mia ma ovviamente anche da parte vostra. Diciamo che per quanto riguarda la Weekend League, la nostra attenzione deve andarsi a focalizzare in maniera molto, 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 molto dettagliata su quelle che sono le cosiddette partite scalino, perché per esperienza personale e non solo personale, sono le partite che sono più soggette a quelle situazioni strane, scriptate, come ci piace definirle. Quindi che so, il tiro che fate con Cristiano Ronaldo, con Bappé, con Bejeder, che vi è entrato nelle altre 100 partite che avete giocato prima, vi entra, non vi entrava sul palo. Il passaggio che avete sempre fatto per smarcare la vostra punta viene intercettato da Varane, che si allunga come Carolina Costner sul ghiaccio. Quindi quando succedono le cose strane, solitamente è in quei casi lì. E sappiamo inoltre che quelli che sono le situazioni, diciamo, più soggette a ricevere script e bla bla bla, ce ne sono in game e sono in particolare, diciamo, tre, mi viene da dire, tre grosse categorie. La prima categoria, una delle più importanti, è quella relativa ai minuti di recupero, o comunque 45esimo, 90esimo, 105esimo, 120esimo. Quante volte vi è capitato di prendere gol in questo frangente? Quante volte vi è capitato di prendere gol con l'arbitro che non decretava mai la fine, anche se aveva dato un minuto di recupero e in realtà eravate al 48, 92, 110 e 167? Quindi quelli lì sono dei momenti notoriamente magici. Come fare per evitare di dire, eh, ho preso gol al 90esimo, eh, il gioco mi ha fatto prendere gol? Come fare ad evitare ciò? Però sappiamo, come detto, che sono dei momenti in cui forze oscure cercano di agire contro di noi. Il consiglio che vi devo dare, e che è anche quello che mettiamo noi in atto, soprattutto a livello competitivo, è quello di avere noi il pallone in quel frangente. Perché se ovviamente il pallone ce l'ho io, l'avversario non può mettermi in difficoltà, ok? Alle volte capita di vedere partite in cui, ad esempio, dall'ottantesimo in poi, si cerca di tenere balla per arrivare al novantesimo e cercare di andare a sfruttare proprio quell'ultima azione. Allora siamo tutti pazzi che facciamo così? No, lo sappiamo che in quei frangenti lì è più facile magari trovare la via della rete. Quindi cercare di tenere noi il pallone, sebbene magari significhi fare melina dal quarantesimo al quarantacinquesimo, dall'ottantacinquesimo al novantesimo, e poi partire più o meno quando manca un minutino prima che venga decretato il recupero per cercare di sfruttare noi quell'azione lì. Un altro piccolo consiglio che posso darvi è quello di non tornare mai troppo indietro quando vi trovate nei minuti di recupero, perché avrete sicuramente notato che se superate quella che è la seconda linea a partire dalla porta del vostro avversario, avvicinandovi al centrocampo, l'arbitro andrà a fischiare la fine. Di conseguenza non andate mai troppo all'indietro, anzi, se vi ritrovate in zona offensiva e state cercando di bucare la difesa avversaria e vedete che non ci sono spazi, piuttosto fidatevi di me, cercate di fare un passaggio nel centro verso il vostro giocatore, perché un sacco di volte la palla passerà uguale. Sotto le gambe, animazioni strane dei vostri avversari, la palla spesso e volentieri arriva. In particolar modo questa è una situazione che potete sfruttare tanto da calcio d'angolo. Da calcio d'angolo, in queste situazioni di tempi morti, spesso e volentieri buttando la palla dentro si riescono a fare delle cose abbastanza epiche, pure se normalmente non sarebbero mai riuscite. Un altro piccolo consiglio che mi sento di darvi, per evitare insomma che succedano cose strane nei minuti finali, è quello di buttare la palla fuori. Ovvero, quando vedete che il tempo è scaduto e siete voi in controllo di palla, vi girate verso la linea laterale, tirate una cannonata, spaccate la finestra della vicina che abita di fronte allo stadio e l'arbitro fischia sempre la fine. Mi raccomando, però in laterale, perché alle volte in calcio d'angolo ve lo fa giocare all'avversario e rischiate molto, però è molto più conveniente buttarla fuori, piuttosto che buttarla magari lunga, quando può essere intercettata nel cerchio di centrocampo dai giocatori avversari e quindi con un colpo di testa rapido che va a scavalcare la vostra tre quarti, l'arbitro non fischia. Stessa cosa perché può capitare dall'altro lato del portiere, il portiere con un rilancio lungo va a scavalcare la linea di fine partita e l'arbitro non fischia, quindi prendete palla e piuttosto sparacchiatela fuori laterale. È una cosa che fanno più o meno tutti anche a livello competitivo e vi assicuro che vi togliete così da ogni imbarazzo. Per quanto riguarda poi quelle che sono le partite storte appunto, quindi le abbiamo identificato in WL solitamente con il match scalino, però se è una partita storta ve ne accorgete. Vedete che il tiro che solitamente entra eccetera eccetera non vi entra come vi ho detto in precedenza. Cosa fare in quel caso lì? In quel caso lì bisogna assolutamente cercare di tenere il pallone più del normale rispetto al vostro avversario e rispetto a quello che siete abituati a fare solitamente perché ovviamente se avete voi la palla a tre piedi l'avversario è meno soggetto a fare azioni offensive e quindi a sfruttare magari l'inerzia della partita che pende dal suo lato, quindi cercare di aumentare il possesso palla senza cercare di andare troppo in azioni verticali perché altrimenti i giocatori avversari possono recuperare facilmente il pallone con autoblock strani, quindi cercate piuttosto una manovra molto più lenta e cercare di andare al limite dell'aria e passare la palla al vostro attaccante libero solo quando effettivamente vedete lo spazio. Un'altra situazione magica è quella del kick off, chiamiamo le situazioni magiche perché dire scriptate sembriamo tutti dei pazzi, chiamiamole situazioni magiche. Un'altra situazione magica sappiamo bene essere il kick off, ok? Quindi quando subiamo goal o quando facciamo goal è chiaro che c'è più possibilità, l'abbiamo ormai appurato, che l'avversario ci pareggi o che noi possiamo pareggiare. Cosa fare al kick off per evitare che succeda questo? Due cose. Primo, spam della trappola del fuorigioco perché nel momento in cui, quindi freccetta giù, frecgetta giù, nel momento in cui andate a spammare la trappola del fuorigioco la vostra squadra si alza, si va a ridurre quella distanza tra reparti tipica di quando diciamo, eh, me si è aperta la squadra, me si è aperta la squadra sul kick off. No, voi spammate la trappola del fuorigioco, si vanno a ridurre le distanze tra reparti e la squadra non vi si apre. Se poi il kick off lo dovete prenderlo, subite, stessa cosa per le situazioni precedenti, poi può capitare, si prende uguale, però meglio metterci nelle condizioni di cercare di evitare al più possibile di subirle queste cose. Quindi spam della trappola del fuorigioco. Un'altra cosa che dovete fare e che potete fare sul kick off per evitarlo, fallo, faccio per terra, scivolata a cannone, contrasto a cannone, perché nel momento in cui il kick off viene stoppato da un fallo, è finito, non c'è più, quell'effetto lì si perde. Altra azione, non è più kick off, quindi è come se il gioco si resettasse, perdesse quella cosa di dire, ok, però era l'azione del calcio d'inizio. Quindi un'altra scelta che potete andare ad applicare è questa qui del fallo. Vedete che ne subirete molti molto meno, sia con il fuorigioco che con la tecnica del fallo. E niente, per quanto riguarda questo video, fondamentalmente era questo. Sono, diciamo, tre categorie di situazioni particolari magiche nelle quali ci si può però andare a comportare in questo modo per evitare che si verificano. Quindi questi erano dei piccoli consigli che mi sentivo di darti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ragazzi, vi esorto come al solito a lasciare un like e un commento per tutte le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Trovate le info in descrizione. E nuda ragazzi, a me non resta altro che salutarvi. Ciao!